Ciao a tutte e benvenute in un mio nuovo video. Oggi video collaborazione, video unboxing, poiché aprirò con voi un pacco ricevuto da Stylevana. Stylevana è un'azienda che si occupa della rivendita di prodotti make-up e skin care, skin care coreana, di diversi brand con un ottimo rapporto qualità prezzo. Sono contentissima di essere stata contattata da Stylevana e sono contenta di provare i prodotti che mi hanno voluto gentilmente inviare. Mi avevano messo a scegliere se provare prodotti skin care o prodotti make-up. Come primo approccio ho deciso di provare i prodotti make-up, quindi all'interno di questa scatola troveremo dei prodotti make-up. Stylevana mette a disposizione un mio codice sconto che è INF10CRM, ve lo lascerò anche sotto in descrizione, che vi permetterà di avere uno sconto pari al 10% senza un obbligo di spesa minima. Se la vostra spesa sarà superiore ai 48 euro, potete usufruire di un ulteriore 15% di sconto. Vi lascerò qua a fianco i limiti di spesa degli altri stati. Sono stata contattata e nel giro di pochissimo tempo mi hanno inviato il pacco. Sono stati molto celeri. Una volta che è arrivato dove è stato preso in carico da Bartolini, Bartolini mi ha inviato un sms e quindi sapevo esattamente la tracciabilità del pacco e sapevo individuare le varie tappe. Comunque è arrivato in pochissimo tempo, meno di due settimane. Infatti stavo aspettando altri pacchi e non ero convinta che si riferissero a questo. Insomma la mia esperienza iniziale non può che essere positiva. Adesso procediamo e apriamo il pacco così vi mostro cosa mi hanno inviato da provare e da recensire. Oggi mi limiterò a farvi vedere i prodotti e poi ci sarà un secondo video. Oggi è sabato quindi vedrete un nuovo video martedì dove vi mostrerò e proveremo insieme i vari prodotti make up che ho deciso di testare. Ora cambio l'inquadratura in maniera tale da farvi vedere nel dettaglio i prodotti che mi hanno voluto inviare. Questo è il pacco una volta aperto. Come potete vedere ha volto tutto benissimo all'interno della pluriball. Ora apriamo e vediamo cosa mi hanno mandato. Come vi ho detto oggi mi limiterò a farvi vedere i prodotti, a dirvi di che prodotto si tratta e poi nel prossimo video proveremo i prodotti insieme. Allora incominciamo dal primo. Il primo è questo, è un lip balm. Vi metterò qua a fianco le specifiche del prodotto. Questo è il marchio. si presenta. Ha pochissimo profumo ma comunque l'importante è che non puzzi. Voi lo sapete io guardo molto anche le profumazioni dei cosmetici o del make up. Anzi ha un gradevole profumo. Il colore che ho scelto è coral. Ovviamente voi lo sapete io sempre lì vado a parare. Quindi un lip balm che è leggermente colorato. Lo proveremo insieme. Adesso passiamo al secondo prodotto che mi hanno mandato. abbiamo quindi un gel eyeliner sempre il medesimo marchio. Si presenta così. Quindi questo è il cartonato. qua c'è il prodotto. La proviamo. Un bellissimo nero intenso. La punta è anche sottile. È retraibile. Il colore è numero uno. Andiamo a vedere il terzo prodotto. È di questo brand qua. Non so se si vede. Questo è un mascara. E adesso vediamo com'è il pack interno. Il pack interno è questo. Quindi in questa confezione un po' opaca che sembra quasi un marrone scuro. Tra il marrone e il nero. Il tappo è in rose. Il prodotto è così. Ve lo mostro aperto perché intanto lo proveremo insieme. Questo è lo scovolino. Come prima impressione mi piace perché rimane piccolo. E avendo io delle ciglia che non sono proprio il massimo. Non rischio di sporcarmi. Passiamo al quarto prodotto. Questo è il brand. Sempre identico a quello del mascara. La confezione è molto bella. Olografica. Ed è una base illuminante. Una base glow. Adesso lo apriamo e vediamo. Pack quindi primario. Vi faccio vedere il prodotto. Ha un SPF 50. Quindi oltre a essere una base è anche comoda. Perché può essere messa quindi sotto il make up e si ha anche la protezione. Questo è il prodotto. Un buonissimo profumo. Si è già asciugata. Quindi una stesura anche veloce. Nella mano non si può notare più di tanto ma lo proveremo nel make up. Passiamo se non ricordo male al blush che ho scelto che è questo. Questo è il brand. La colorazione che ho preso io è la 02. Sempre nei colori, nelle tonalità del corallo. Ormai voi lo sapete. Quindi pack secondario. E andiamo a vedere il pack primario. È un bellissimo blush. Il colore è questo. La cialdina non è neanche piccola. Lo proviamo. Mi dispiace anche sbocciarlo. Perché è anche una scritta all'interno. Ha un buon profumo. E il colore. Al tatto mi piace molto perché rimane non burroso, però neanche troppo secco. Mi piace tanto. Questo è il colore. Quindi potete vedere che si sposa bene con tutte le tonalità per ora del lip balm che ho voluto scegliere. L'altro prodotto è un fondotinta Cushion. La colorazione che ho scelto io è la 301. Spero di non essermi sbagliata. Questo è il brand. I pack sono stupendi. Solo il pack. Voi lo sapete. Io mi faccio catturare molto dal pack. Apriamolo. È meraviglioso. Solo per il pack è fantastico. È curato nei minimi particolari. Queste aziende non deludono mai. Allora, guardate qua lo specchio. È coperto da una pellicola. Ha poi la sua spugnetta. Che non è la classica spugnetta perché è tipo il materiale delle blender. Bellissimo. Colore viola all'interno. È il logo qua. Leggermente angolato per poter arrivare in tutti i punti. E apriamo il prodotto. Tenete presente che io normalmente i Cushion non li sto utilizzando. Quindi sono proprio curiosa di vedere con la base Glow che mi hanno inviato e questo prodotto quale sarà il risultato finale. Adesso proviamo a vedere la tonalità. Allora, si presenta così. È senz'altro da sollevare. Aspettate che non voglio far danno. Ok. Dovrebbe essere così. Sigillato. Quindi anche questo è un valore aggiunto. Il colore è questo. Io voglio provarlo. Profumo ottimo. Proprio ottimo. E non è da dare per scontato perché ci sono alcuni prodotti di brand blasonati. Hanno degli odori che io sinceramente non riesco a mettermi neppure in viso. Allora, questo è il colore. Penso che sia perfetto per il mio incarnato. Il colore è questo. Sembra chiaro, ma considerate che questa parte rispetto al mio viso è più abbronzata. Non è secco, diciamo. Si asciuga subito, quindi senz'altro è da lavorare senza distribuirne tanto come faccio col fondotinta classico in tutto il viso, ma da lavorare per zone. Ho riattaccato la pellicolina. Si richiude così. Io adesso non ho voluto utilizzare la spugnetta perché io ho già tutti i trucchi, li riduco in maniera poco presentabile. Vorrei fare il Get Ready Win Me con i prodotti ancora intonsi, se riesco. Comunque si è già asciugato, io per il momento sono soddisfatta. Voi lo sapete che se un prodotto non mi piace, non faccio il video e sono sincera e lo dico nel canale. Avete imparato a conoscermi, quindi se io vi dico quando proviamo i prodotti che i prodotti sono buoni, vi potete veramente fidare. Presumo che abbiate imparato a conoscermi. Comunque per il momento, allora i pack non 10, 11. Per quanto riguarda un parere iniziale, quindi un primo approccio solamente swatchando, io per il momento sono soddisfatta di tutto. Ora passiamo agli ultimi due. Dovrebbe essere una cipria, vi dico dovrebbe perché io lo sapete non mi preparo niente, quindi non ho studiato prima di fare il video. Ho semplicemente aperto la scatola che mi hanno inviato e sto vedendo con voi per la prima volta i prodotti. Il pack è inutile dirlo. C'è la pesca e quest'anno la pesca l'ho in diversi prodotti, anche di diversi brand, quindi mi piace tantissimo. Proseguiamo e apriamo la confezione. Quindi come potete vedere sono sigillati benissimo. Questo è il pack. Sempre il brand scritto anche nella spugnetta. Sigillato. Ho tolto l'adesivo che proteggeva e evitava la fuoriuscita della cipria. Com'è? Ne ho fatto uscire poco. Non ho un pennello. Molto molto sottile, veramente impalpabile, quindi presumo che per una pelle matura come la mia e con i pori che in alcuni punti sono in vista e per giunta principalmente secca nel periodo invernale e mista nel periodo estivo, possa fare a caso mio. Sa proprio di, sembra quasi borotalco, anche il profumo è gradevolissimo. Questi prodotti per il momento sono tutti promossi, vi dico sinceramente, mi piacciono tutti. I pack sono stratosferici. Proviamo l'ultimo prodotto che è questo, se non ricordo male dovrebbe essere la matita per le sopracciglia. Voi lo sapete che per quanto riguarda le sopracciglia è impossibile avere una gamma vastissima di colorazioni. Dal sito questa sembrava la colorazione più adatta al mio incarnato e alla mia tipologia, insomma ai miei capelli. Ovviamente non è un rame e non è un rosso, però lo proviamo insieme. È in diagonale. Retraibile. Quindi si può fare anche il peletto. Adesso qui avevo la crema, me la metto qua. Mi piace tanto il colore che dal pack esterno sembrava freddo, non lo è per niente. Il colore è questo. Ho preso mi sembra la colorazione più chiara, poi comunque vi lascerò mentre parlo tutti gli articoli al lato con la descrizione. Mi piace tanto il fatto che normalmente queste matite retraibili, io ne ho provate diverse, fatte così di altri brand, rimanevano molto o asciutte e non scrivevano, oppure rimanevano molto morbide, troppo pastose. Invece questa secondo me ha un giusto compromesso perché scrive, ma allo stesso tempo si può fare con facilità il peletto perché non è troppo morbida come altre matite. Sono contentissima, adesso ve la faccio vedere se trovo un punto, non so se riuscite a vedere. Mi piace, mi piace tantissimo anche lei. Il video termina qua, solamente vedendo i prodotti e sbocciandoli sono rimasta soddisfatta. Vi dico che sono andata un attimino a rilavarmi le mani e non andava via l'eyeliner, quello a matita. Quindi come prime impressioni sono più che positive. Ringrazio ancora Stylevana per avermi omaggiato di questi prodotti e noi comunque li proveremo, li testeremo insieme nel prossimo video. Quindi prestissimo. Vi ricordo ancora che vi lascerò in descrizione il codice sconto qualora vi interessasse qualche prodotto make up o skin care. E noi ci vediamo ad un prossimo video che sarà quello Get Ready Win Me. Ciao a tutte, buon fine settimana.